l'asilo sono le tre è l'ora di svegliare i bambini romeo benten su sveglia romeo benten su pigroni sveglia adesso provo a svegliare benten romeo romeo ma cosa fai benten come stai tutto a posto tutto a posto oh si andrea mi sembra che tutto a posto meno male scusa benten scusami tanto te la faccio vedere io te la prossima volta stefi sofia su alzatevi alzatevi eccomi qui che sonno andrea su adesso vi conto un po' uno due tre quattro ma dove è finito il quinto wow arrivo bravo wow devo ancora migliorare il mio drone non è ancora del tutto pronto su ragazzi è l'ora di fare un bel bagnetto rabbolo ha una strana tosse che non mi piace proprio questa situazione non mi piace proprio abbiamo i denti e ci e ci e ci benten con te com'è finita tutto bene come stai Andrea certo sto benissimo non ti preoccupare e ci e ci no no la situazione non va proprio bene adesso controlliamo i vostri polmoni non respirare rimani fermo adesso ispira espira forte vediamo stefi non respirare adesso ispira la bocca non va proprio ok ho capito adesso controlliamo la vostra gola stefi apri la bocca più grande che puoi ahhh ha la gola molto arrossata Andrea controlla la mia gola io sento che è tutto a posto va bene controlliamo subito la gola arrossata anche Sofia oh Andrea cosa possiamo fare cosa possiamo fare cominciamo da te vediamo la temperatura oh la tua temperatura è molto alta vediamo te benten oh ma anche tu hai la febbre forza Andrea voglio andare a fare una passeggiata forza no 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 Rubble oggi non andiamo da nessuna parte avete tutti la febbre quindi mi sa che andrete tutti a letto offrire come sempre e lo sapevo Pronto? Sono il dottor McStuffin Pronto dottor McStuffin, sono Andrea I miei bambini sono tutti malati, hanno la febbre Cosa devo fare con loro? Mi dica Ciao bambini, cosa avete? Ditemi un po' Dottor McStuffin, buongiorno I bambini purtroppo hanno una bruttissima tosse E la temperatura troppo alta Forse ho capito qual è il problema Andrea, i bambini hanno bisogno di stare a letto almeno due giorni e di prendere queste vitamine Bambini, avete sentito bene? Grazie mille dottor McStuffin, grazie Guarite presto bambini, ciao ciao Due giorni interi a casa, come farò? Ragazzi è l'ora di prendere le nostre vitamine Mmm, che sono buone queste vitamine Mmm, buone Benten, ecco a te Io non mangerò mai queste vitamine Benten, non preoccuparti Prendi le vitamine Sono buonissime Va bene, ok, d'accordo, d'accordo, le prenderò Tieni qua, eccoti le vitamine Sì, avevi proprio ragione, sono proprio buone queste vitamine Bambini, rimanete a letto, mi raccomando Adesso vado a prepararvi qualcosa di buono da mangiare Va bene Andrea, io controllo affinché nessuno si alzi dal letto Va bene Oggi faremo una buonissima macedonia di frutta Adesso preparerete Aggiungiamo un buonissimo chai con miele e limone per i nostri bambini Tagliamo il nostro limone Lo mettiamo nelle tazze dei nostri bambini Ecco qua Uno Due Tre Quattro E cinque E adesso aggiungiamo un po' di buonissimo miele E il nostro ottimo tè è pronto Mentre Andrea, sente, faccio un bel voletto sul mio drone Ehi Rabbo, Andrea ci ha ordinato di rimanere a letto Torna subito indietro Va bene, va bene, torno a letto Ragazzi, eccomi qua Vi ho preparato una buonissima macedonia di frutta Mmm, com'è buona Oh, amo l'arancia. Che buona, che buona. Bravissimo, Benten. L'arancia è veramente buona, contiene tantissima vitamina C. Ed ecco un buonissimo tè con limone e miele. Sofia, ecco a te. Mmm, che buono questo tè. Io mi prenderò cura di voi finché non siete guariti. E con te ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Sono già le tre, è ora di svegliare i bambini. Io sono già sveglio. Benissimo, Taio. Scendi giù. E noi eccoci qui. Perfetto, contiamoli. Uno, due, tre, quattro e cinque. Tutti al loro posto. Andrea, mi puoi pettinare? Certamente, Kansas. Ecco, perfetto. Ecco, perfetto. Bene, bene. Grazie mille. E poi cosa fate, Fermi Li? Su, andiamo. Tutti in piscina. Oh, che bello! Oh, che bello! Taio, Cesc, su, avanti, su, in piscina. Yeah! Wow! 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 Sofia, dai. Leviamo il visino. Su. Sono l'etico, sono l'etico, sono l'etico, sono l'etico. Bravissimi! Adesso siete tutti pulitissimi. Possiamo iniziare le nostre attività. Cos'hai preparato per noi? Lo scoprirete presto. Cos'è questa macchina qui? Così forte suona. Ragazzi, qualcuno di voi può rispondere a questa domanda? Io ho visto questa macchina per strada. Si chiama ambulanza. Corretto! Bravo! Questa è una vera ambulanza. Va da tutti i malati, li prende e li porta in ospedale. Oh, ma com'è interessante! L'ambulanza è di colore bianco con delle strisce arance. E cos'è questo portellone? Dentro questo portellone abbiamo tutti gli strumenti medici e i macchinari. Sono sicuro che questa può curare ogni malato. No, purtroppo ci sono delle molattie che si possono curare solo in ospedale. Per questo l'ambulanza prende il malato e lo porta in ospedale. Andrea, ma perché questa macchina? Facevo così tanto rumore quando è arrivata. Perché sul tetto l'ambulanza ha quattro lampeggianti. Uno, due, tre e quattro. Quando viene chiamata l'ambulanza, i lampeggianti si mettono in funzione affinché tutti la lasciano passare. Oh, super! Anch'io ne voglio una così. Al volante c'è un medico. Ciao! Lui indossa un particolare vestito bianco con un gilet arancione. E sul suo gilet il simbolo speciale dell'ambulanza. Oh, è davvero un lavoro interessantissimo. Aiutare le persone. Sono veramente contento che vi sia piaciuto. Adesso potete giocare un po' all'ambulanza. Nel frattempo io vi preparo qualcosa di buono. E tra l'altro, dove andrete a mangiare? All'asilo? Oppure andiamo fuori all'aperto? Io voglio all'aperto! Perfetto! Grande idea, Chase! Andate a giocare! E allora, bambini, chi di voi sarà il paziente? Oh, oh, ma come sto male! Come sto male! Ecco, Chase alla barella. Chei, portami qui la mia borsa. Prego! Perfetto! Oh, alla fronte è molto calda! Dottore, dottore, ecco qui la vostra borsa. Grazie. Dottore, dottore, cosa bisogna fare all'inizio? Prima di tutto bisogna controllare le pulsazioni del cuore e la respirazione. Respirate, non respirate, non respirate, respirate ancora. Espirate. Dottore, 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 cosa ha la nostra amica? Mmm, la respirazione è assolutamente buona. E adesso misuriamo la pressione. Oh, oh, oh! Che succede? Che succede? Lei ha la pressione un po' alta. La porto in ospedale e faccio degli ulteriori controlli. Oh, no! No! Non aver paura, Kansas. Dopo l'asilo, verremo da te in ospedale a farti visita. E ti portiamo tanta frutta! Non abbiate paura, tutto andrà bene. Oh, mi è venuta una gran fredda! Sì, sì, anch'io voglio mangiare, anch'io voglio mangiare. Eccomi qua! Ragazzi, dov'è Kansas? L'ha portata via all'ambulanza, in ospedale, per fare degli ulteriori controlli. Oh, ma come mi dispiace! Allora mangiamo subito e andiamo a trovarla. Che bello! La griglia, la griglia! Cosa ci cucinerai di buono? Siccome abbiamo pochissimo tempo, facciamo delle salsicce a rosto. Mmm, che odore stupendo! Chase, aspetta cinque minuti. Tutto sarà pronto molto molto presto. Mmm, penso che le salsicce siano già pronte. Prego ragazzi, favorite! Mmm, sono proprio sazio! Mmm, io amo le salsicce! Mmm, Andrea, grazie mille! Tutto, tutto molto buono! Ragazzi, sono felicissimo che vi sia piaciuto! Adesso su, andiamo a trovare Kansas! Urrà! 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 Non dimentichiamo di comprare per strada la frutta! Ragazzi, ragazzi, aspettatemi! Ciao, ciao!